Buongiorno a tutti, sono Stefano Pollonio, Product Manager dei prodotti consumer di Epson Italia. Siamo qui nel Photoshop per mostrare in anteprima alcuni prodotti, prodotti di grafica, legati appunto anche alla fotografia, ma non solo. Siamo qui per mostrare un nuovo prodotto che è Moverio, il quale claim, il quale motto appunto indossa il tuo futuro. Ha un prodotto innovativo, è un occhiale che si monta praticamente come un occhiale, si indossa e all'interno c'è la possibilità di vedere la proiezione. Quindi il concetto di caricare un video, caricare un'immagine, qualsiasi file multimediale che si voglia caricare, perché supporta appunto Android come sistema operativo, io lo posso utilizzare per viaggiare, quando sono in movimento io posso guardare qualsiasi cosa direttamente indossandolo sostanzialmente. Noi parliamo di questi prodotti perché siamo anche i leader della video proiezione. Insieme in collaborazione con Photoshop, ma anche in collaborazione con Apple, abbiamo realizzato dei dispositivi, delle macchine, dell'hardware che integra la possibilità di utilizzare i dispositivi tipo iPhone piuttosto che iPad o iPod direttamente con i nostri video proiettori, dai quali appunto siamo leader indiscussi. Seguitemi, vi faccio vedere i nuovi prodotti. Parliamo di connection, di connect, della possibilità di gestire più dispositivi, quindi Android e anche Apple, tutti legati a Epson come prodotti. Abbiamo due prodotti che abbiamo lanciato a settembre dell'anno scorso, l'MG850HD, che è un prodotto di alta qualità perché ha un'ottima risoluzione e contrasto, è un prodotto utilizzato anche a livello fotografico, negli studi fotografici per mostrare magari al cliente il risultato possibile che una foto può ottenere. Funziona direttamente collegandolo alla dock station, funziona proprio inserendo il nostro dispositivo. Come potete sentire, all'interno è costituito da due casse stereo da 10W, che adesso vi faccio sentire. Oltre a questa modalità c'è anche la possibilità di utilizzare in associato un nuovo prodotto, il PX fotografico 830 FWD, quindi fax, wifi e fronte retro. È un dispositivo che potrebbe interagire benissimo con un iPhone piuttosto che un iPad, proprio data l'applicazione che abbiamo poi noi resi proprietari, che è Apple e Epson Connect. Tutto questo per poter interfacciarci molto meglio con la stampante, quindi stampare, quindi fotocopiare, quindi mandare anche una scansione oppure mandare un'email alla stampante. Vi saluto con questo breve saluto rapido e vi ringrazio. Ciao.